Ciao a tutti, sono Andrea Villani, uno studente del CFM Sonoria e studio con il maestro Pasquale Renna. Oggi mi trovo nello studio della scuola e innanzitutto ringrazio Tommaso Sanzonetti per avermi concesso di partecipare a questa sua bellissima iniziativa. Il brano di cui oggi voglio parlare è A me mi piace un blues, un pezzo di Pino Daniele, ma in una versione del 1998. Perché ho scelto questo brano? Uno perché c'era il grande Peter Hesky nella batteria e ne stavamo parlando con il mio maestro mentre studiavo jazz. Due perché non c'era nessuno su YouTube che ha fatto questa versione, ma tutti quanti specchiavano la versione di Agostino Marangolo. Tre perché è stata una bella sfida per noi studenti del CFM Sonoria rifarla seguendo questa versione e ne siamo rimasti molto soddisfatti del risultato e spero lo siate anche voi. Trovate il link in descrizione della nostra cover YouTube. Detto questo cosa andrò a fare nelle otto misure? Andrò a fare le prime otto misure del brano, cioè le prime quattro misure che rispecchiano gli stessi obbligati del pezzo originale che inizia con il sedicesimo elevare, cioè 1, 2, 3, 4, pa, 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 bpm che è la velocità originale e 85 bpm più lenta. Andiamo! 1, 2, 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20. Grazie a tutti.